è successa una cosa bellissima oggi ho inaugurato un ombrello che mi hanno regalato mesi fa me l'hanno regalato all'inizio dell'inverno e me lo sono portato dietro tante volte guardando a volte le nuvole nel cielo eppure niente invece oggi incredibilmente piove questa cosa ha coinciso con un evento molto strano un'avventura che mi è capitata mentre rientravo a casa passavo in un posto vicino a un bosco vicino a casa mia sto guidando e vedo tutto buio tranne un unico lampione che illumina un pezzo di quello che sembra un giardino a tutti gli effetti un giardino immagina in mezzo al bosco questa struttura in cemento brutalista proprio nel senso vedi la struttura molto bello tra l'altro il contrasto elegante e questa luce illumina un pezzo di prato curato devo dire variegato con tante specie diverse trifogli fiorellini vedi tante cose diverse un vaso di terracotta e poi dietro quella che sembra la figura di aiuole che vanno verso l'oscurità dove non arrivava più la luce ora piove c'è tanto vento però insomma quella zona era abbastanza protetta quindi io incuriosito parcheggiato era un posto veramente laterale quindi non rischiavo nemmeno di incontrare automobili sono sceso e mi sono ritrovato in questo giardino e in questo giardino dove ci sono tante piante diverse graminacee piante spontanee malve insomma un giardino di piante erbacee di erbe bellissimo con queste cose che tu adesso magari sono ancora corte però te le vedi già tra un po di tempo alte belle flessuose che vengono mosse dal vento molte di queste erano già in questa forma alta e lì vicino c'era una persona non mi ha spaventato niente di che niente niente di strano proprio che evidentemente era la persona che curava questo giardino allora mi dà il benvenuto e e parliamo un po e mi dice con tristezza mi dispiace che abbia piovuto perché le piante si sono rovinate mi guardo intorno e mi rendo conto che in effetti ci sono tante piante piegate intorno a me steli spezzati insomma anche se era buio anche se era sera anche se c'era solo la luce di un lampione ti rendevi conto che non era al massimo della forma diciamo questo posto non era un giardino che dipingeresti almeno non nell'immaginario comune se ti se guardi un che ne so se vai sui social cerchi su delle foto di un giardino di piante erbace non le troverai mai fatte nel momento in cui ha piovuto a meno che non ci sia un qualcuno che vuole trasmettere un qualcosa di particolarmente romantico però di solito sono piante giorni di sole con il vento con i pieni di fiori sono giardini molto difficili da far apprezzare e mi rendo conto parlando con questa persona di rivedere in lei tante altre persone con cui ho parlato o di cui ho letto che avevano giardini di piante erbace che avevano curato per anni la la mescolanza di specie il modo in cui interagivano tra loro in cui si fagocitavano in cui si mangiavano in cui si combattevano e avevano curato per anni l'aspetto che avrebbe avuto questo posto e quando magari organizzavano delle cose delle visite del oppure invitavano delle persone care per far vedere questo posto nel momento in cui pioveva poi erano estremamente dispiaciute perché si perdeva l'effetto che avevano così attentamente costruito e allora parliamo e questa persona mi fa fare un giro di questo posto poi ci salutiamo e me ne andiamo e io me ne vado me ne andiamo nuova nuova espressione coniata ora io sto registrando questo mentre sono ancora in macchina non so se si sente il il ticchettio sulla sulla carrozzeria lo senti se senti qualcosa sono le mie dita ora questa cosa non è successa non perché non ci fosse un lampione ma perché ho preferito evitarmi un'avventura da inizio di di libro perché non so al posto tuo ma io se vedo un lampione in mezzo a un bosco che illumina un giardino francamente penso che l'inizio di di una trilogia di avventura di cui non voglio essere il protagonista però almeno non stasera magari ritorno domani e vediamo però la cosa su cui stavo pensando era che molto spesso noi quando facciamo il nostro giardino ci poniamo in modo tale che questo giardino sia bello per noi solo in un determinato momento e solo a determinate condizioni quando invece la pioggia che c'è stasera che c'è stata oggi tutto il giorno e che chissà quanto tornerà chissà quanto durerà dovrebbe essere benedetta da noi con ogni nostro pensiero con ogni nostra parola e quindi la spiga piegata la foglia rotta da dal vento la foglia piegata e lo stelo che non è al massimo della bellezza che che io magari che ha perso quelle forme che io volevo avesse beh quella forma diventa bello proprio perché c'è l'acqua altrimenti è come immagina questa cosa assurda immagina se per esempio che ne so una persona se una ragazza venisse giudicata dal modo in cui si trucca incredibile immagina se una ragazza struccata venisse considerata meno perché è struccata immagina se nella nostra società si desse peso a queste cose che ne so una persona che è vestita male oppure che non è vestita in un modo perfetto oppure che non ha un fisico perfetto cioè tu pensa se davvero queste cose contassero nella nostra vita beh siccome non contano allora non le facciamo contare nemmeno per il nostro giardino certo sarebbe veramente un una società assurda quella in cui l'apparenza l'estetica contassero senza tener conto di quello che c'è oltre però vabbè fortunatamente non è il nostro caso e quindi io ti chiedo sei una persona soprattutto te se sei a se hai questa passione per le graminacea e se non ce l'hai insomma poniti questa domanda fammi sapere che ne pensi oppure manda questo podcast a una persona che ha questi dubbi a questa a questa passione per te la pioggia è un momento di crisi al di là della gioia perché magari ha piovuto appunto che cosa che piace a tutte le persone appassionate di giardini ma al di là di quello per te la pioggia un problema dal punto di vista di quanto puoi goderti il giardino oppure ti viene voglia di buttarti in mezzo alle pozzanghere dalla felicità quando vedi questi steli piegati in un momento in cui la pioggia sembra anzi è una una merce preziosissima non una merce un dono preziosissimo fammi sapere che ne pensi fammi sapere se ti è capitato di vedere lampioni sparsi per il bosco così e di rischiare di vedere avventure che iniziavano e insomma tu dirai ma chi sei tu non mi sono presentato io sono francesco cecchetti e questo è giardino rivelato che è il podcast di tutti noi che pensiamo che abbiamo tutti quanti bisogno di un giardino specie chi non se lo può permettere o specie chi pensa di non averne bisogno insomma mi trovi su giardino rivelato punto it e ti ringrazio di aver passato questo tempo con me a chiacchierare con la scusa dei giardini a chiacchierare con la scusa dei giardini